L'iticoltura è l'allevamento intensivo di pesci. La gestione è simile a quella degli allevamenti per la produzione di carne e lo sono anche le problematiche per gli animali. Si tratta di vasche situate in mare o sulla terraferma. In una sola vasca possono essere allevati dai 100.000 e 300.000 pesci. Questo numero varia a seconda della loro età e della densità adottata dall'allevatore. All'interno delle vasche non vi è alcun arricchimento ambientale o riparo. Per aggiungere il peso commerciale i pesci passano in queste vasche circa 18 mesi. La cattura inizia raggruppando i pesci con le reti, un'operazione che stressa notevolmente gli animali per la riduzione improvvisa dello spazio vitale. Durante questa operazione i pesci nella parte inferiore della rete rimangono inevitabilmente schiacciati e si feriscono. In seguito vengono ammucchiati dentro grandi casse riempite con acqua e ghiaccio. Molti cadono a terra e finiscono schiacciati. I pesci rimangono in questi contenitori decine di minuti, mentre la poca acqua si impoverisce di ossigeno.